Ciò che resta di quell'incontro a San Giovanni Rotondo, nel convento dei frati Cappuccini, sono queste due foto sbiadite in bianco e nero. In quell'occasione, padre Pio lo disse senza giri di parole a Elenio Herrera. Il giorno successivo, per l'Inter, non ci sarebbe stato nulla da fare contro il Foggia. Ma per consolare il tecnico argentino e i suoi calciatori, il frate aggiunse che i nerazzurri avrebbero vinto il campionato. E così fu. Nel 1965, la formazione campione del mondo di Mazzola, Corso, Suarez e Pero, si aggiudicò il torneo, ma lo Zaccheria il 31 gennaio subì una clamorosa sconfitta per 3-2 contro i Rossoneri, alla prima esperienza in Serie A. Il mago Herrera, dunque, fu sconfitto dal mago di Turi, il meno blasonato ma molto più sanguigno, Ronso Pugliese, memorabile allenatore del Foggia negli anni 60. La straordinaria vittoria dei Satanelli finì sulle prime pagine dei giornali. L'ultimo superstite di quella rosa indimenticabile è il mediano Vincenzo Faleo, classe 1936, che quella partita purtroppo la guardò seduto in tribuna a causa di una squalifica. La domenica precedente a San Siro aveva colpito con una testata il campione brasiliano del Milan, Namarildo, ma la figura di Padre Pio è legata anche alla storia di quel mitico Foggia. Andavamo tutti ogni 15 giorni per andare là, allora Pugliesi ci portava da Padre Pio, lui ci diava la benedizione, dovevamo ascoltare la messa, ci ritiravamo il pomeriggio. Quell'impresa nei giorni seguenti fu vissuta in maniera straordinaria dalla città, tant'è vero che poi davanti alla villa furono allestiti degli altoparlanti che a ripetizione per più giorni diffusero quella radiocronaca.